ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video scherzo ovviamente a Pippo siamo complici cosa ci siamo studiate mamma mia allora uno scherzo andiamo a colpire Pippo in un suo punto debole perché capite che adesso è nell'adolescenza momenti in cui certi argomenti sono tabù per lui tabù nel senso che con gli amici ne parla con noi no ma cioè del lamour infatti ci è stato suggerito da una collezione che abbiamo preso che ha preso Tina perché lei quando vi arriva nel fine settimana e poi ho letto l'ho porta una collezione proprio in tema col mio bubbo mamma mi sta trasformando in un unicorno naturalmente col corno storto non potrei avere un corno dritto naturalmente perché lei ha acquistato questa collezione la love unicorn pappi pappi surprise e si parla infatti si parla di love amore che sarà un po il tema del nostro scherzo sì perché diremo che praticamente siamo venuti a sapere che ha una ragazza una fidanzatina allora voi dovete sapere che pippo quando io le chiedo ma ti piace qualcuno e ora diventa viola rosso e dice ma cosa dice lui non vuole affrontare questo argomento e soprattutto tabù cioè noi non dobbiamo sapere niente anche con lei cioè che cosa strana io provo a indagare però ma niente non dice niente noi invece faremo finta di aver saputo che ha la fidanzata e sappiamo anche chi quindi lo faremo andare su tutte le furie secondo me infatti lo facciamo arrossire per poi dirgli che è uno scherzo che cattiva mi raccomando dovrei anche dire perché non me l'hai detto cioè io sono tua sorella ma guardiamo questa collezione prima di andare a fare questo scherzo una collezione che direi super arcobalenosa super in tema con la mia fronte dai 3 1 c'è guardate la bustina con il super ruccicante allora ogni bustina felicello slime non sono trovare braccialetti gomme da cancellare 3d unicorn e portachiavi qua che bella super luccicosa la trovate naturalmente come sempre in edicola a 3 euro 99 per aprire la bustina c'è ma guarda c'è anche per tutte le bimbe che sono in ascolto c'è un disegno delle grandi per le cuginette che sicuramente si fa e poi insieme alla bustina naturalmente avrete questo un altro libercolo guarda che carino tutto arcobalenoso direi che merita ma prima un'attrice unicorni allora vabbè il booklets come sempre questa è la collezione 2 si è la nuova collezione uuuu ragazzi guardate ho provato il peso il braccialetto unicornoso no ma che bello io ho due twisty trends uno è special fai vedere i braccialetti questi estivi sono bellissimi ecco io ho questo fuazzurro che naturalmente nasconderò perchè se me lo vede tutto mi dice mamma dove l'hai preso? sono due e io mi prendo quello rosa che bello io ho quello verde sono in tema con guarda che bello sta bene con questo mi piacciono siamo fashion e poi qui abbiamo guardate un po' lo slimino questo glielo tengo a quello io rosa questo è arancione piace tanto a Pippo l'arancione perfetto lo tengo a Pippo per farlo calmare post scherzo sperando che si calmi e non è finita qui sono ricche di sorprese oltre al bracciale guardate un po' no questa la metto sulla mia scrivania io ho tutto rosa e hai una gomma è una gomma guardate che bello ragazzi no questa è mia questa non ve la do questa è mia ma per te prenderemo gli altri pacchetti ma mamma unicorno io direi andiamo andiamo a fare questo scherzo e poi faremo rilassare Pippo con lo slime che fai Ale? ho fatto qualcosa a toglie sì ma l'hai saputa l'ultima perché? vieni vieni che è successo? l'hai saputa l'ultima no eh mi hanno chiamato che il tuo fratello è fidanzato ma è fidanzato veramente? sì adesso chiedemogli perché ma veramente? vieni vieni qua chi c'è? vieni qua un attimo aspetta che metto a posto ma non ci credo ma tu non ci devi dire niente come? vieni ma non ci devi dire niente non ci devi dire niente vieni qua vieni dai così però dai su staccati da sto giocando vieni qua un attimo non ci devi dire niente mi conto sei stato bravo eh ma scusami eh ma tu tu tieni nascoste queste cose a tua madre e a tua sorella cosa? eh capito cosa? mi hai chiamato? non ci devi dire niente? ecco perché quando gli chiediamo ma io ma io non mi piace nessuno sì fa quello cosa? eh io ho appena saputo invece cosa? e non mi dici niente che sei fidanzato? cosa hai fidanzato? non è vero non è vero non è vero no aspetta a riacciare io ascolta ascolta ma cosa? vieni qua ma sono stato fino a 15 anni vieni qua vicino a tua madre vieni qua vieni qua allora mamma vieni qua però dai a me ti ho sempre detto che mi puoi dire tutto io te l'ho sempre detto ma vieni qua tutto io te l'ho detto vieni qua oh vieni qua ma te l'avevi detto te ma certo intanto noi è arrivata stavolta c'è la mamma mi ascolti? vieni qua puoi venire qua vieni qua mi ascolti? vieni qua non ti ascolta vieni qua 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 ma te l'avevi detto non è che mi ammazzate ma se ogni volta che te ne parlo non mi ammazzate ma vieni qua ma vieni qua sempre tutto rosso no 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 dai cosa? ma metti ma metti ma metti ma metti ma è una bella cosa ma devi far conoscere ma scusa ma metti la destra ma io esco io esco una volta al mese con i miei amici ma metti la destra si possono avere a scuola certe conoscenze ma ma ascolta ascolta io la voglio presentata me la devi presentare la tua ragazza cioè io voglio conoscire ma cosa chiamo? dai dico il nome no non so te lo giuro te lo sai già che lo so il nome eh te lo giuro stella stella che nome eh ma chi c'è ma non c'è neanche a scuola eh beh mi chiamate la scuola scusa ma io mi chiamate con i miei amici allora prima di tutto ascolta non esiste solo la tua sezione esatto eh non c'era in tutte le classi lo so in banca ah ci perlora mi chiamate la scuola mi chiamate la scuola no ma perché c'ho conoscenza ma chi è mia? guarda nega ma cosa? ma te lo giuro nega l'evidenza te lo giuro nega l'evidenza ma te lo giuro è bionda amore dici una cosa di più ma te lo giuro ma te lo giuro ma stella pensa che sia bionda ma non è vero ma non è vero ma non è vero ma non è vero vabbè fatemi film ma io ho sempre detto che alle more ti piaccia di pietro e bionda dai com'è moro e bionda vabbè diciamolo questa ma non è vero ooooh ora ti nega ooooh ora non nega lei vi lega ma te l'avevi detto te facciamo di ritorno ma come ti dovevo dire mi devi inventare ascolta calma ti calma ti che non hai fatto nessun reato per una volta che hai fatto una cosa buona ma te l'avevi detto presentamela la voglio però si porta la vendita quando ti chiede io vado allargamento tu no 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 lui nega come se ci fosse qualcosa di male beh all'età l'ha nottato eh come l'ha nottato dai bionda e mora dai su viva dai è bionda e mora ma tu come è quello sei bionda e mora ma non mi stai dando fastidio ma quanti anni ha dimmelo gli anni 57 57 no no dai filippo ma te lo giuro ma te lo giuro e allora chi ce l'ha detto è bugiato no no fonti sicure fonti sicure fonti sicure come si chiamava il sito tipurisime spariamocavolote.it no allora senti no ma te lo giuro non il giurare è falso scusa ma te lo giuro bionda mora magari rossa ma te lo giuro ma perché ci tieni fuori dalla tua vita ma che vita ma non c'è niente ma devi dire ma cosa me l'ha detto il tuo amico chi è e l'ha giurato su tutto io so e mi ha detto di non dirti niente non te lo dico non te lo dico perché poi tu taccarnisci con i tuoi amici io voglio sapere se è mora o il bionda allora no allora qui mi saprei chiesto ma ma te lo raccoprirai te lo dico scusa il prossimo sabato e domenica facciamo pranzo con lei ma cosa minimo merenda qui e allora merenda c'è anche fede mettiamola è caccia di una vuota dai vuota tanto non ne videresti no ma cosa ma lui vuole e cosa invito i fantasmi e cosa invito i fantasmi eh i fantasmi no ora voglio sapere qui c'è cicova ma cosa cicova cosa vuoi sapere ora voglio sapere chi è non te lo dico che è il tuo amico ho detto di rimanere analigo ho promesso di non dire però fonti sicurissime hai capito perciò zitta ma io so già chi è dimmi se ma io so già la vedi vedi quindi la metti no no perché io so c'è solamente un mio amico che ha il tuo numero solo uno ce l'è ma chi ti ha detto che mi aveva detto per telefono eh sì è quando te l'ha detto potrei averlo visto fuori da scuola in giro magari sai io so benissima io so benissima io so benissima ma quindi vedi che lo so benissima no ma stai crescendo ma no 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 biondo amora basta almeno sei biondo amora sai dove ti lasciamo stare dai biondo amora ma basta dove è vero ancora vabbè e quando ce la vuoi dire quando le sposate scusami no appena mi finanziano realmente ah quindi vuol dire quella cosa così no cerca di essere serio non prendere il giro mai e non prendere il giro mai cosa ancora mai allora ma sai che io so com'è so che sei sbiondo o nera indovina un po' com'è eh com'è è boccato come te scherzo oh ce l'ho sopprita ce l'ho sopprita oh ma intanto qua però ha detto c'è solo un amico che sa qua mi sa che è fidanzato davvero no no che altro numero ha detto eh però non hai negato finita la testa adesso mi devi dire chi è guarda che gli occhi luci dico ah mi dà fastidio dai facciamolo rilassare dai su rilassare oh che sarà mai prima o poi ce l'aveva fidanzata povera lei ma prima o poi ce l'avrai no eh dai su rilassati un po' rilassati un po' rilassati un po' povera stella ho trovato il nome mello diffuso cosa si deve sopportare stella tieni pippo questa parte l'abbiamo già aperta sarebbe una santa no stella santa stella vado veramente allora guarda che ti ho lasciato mamma la slime arancione perché ti conosce l'ho presa infatti perché si è scritta l'olio ah è allo sguardo l'assassino pippo che c'è rilassati rilassati dai su è stato uno scherzo dai soft vero no perché quando so una cosa ma come sei e vai vai quando io so una cosa che non è vera ti dà fastidio a me non è che mi sembra tanto che non è vera ma come è un corpido chiediamo alla fidanzata di pippo che guarda questo video di scriverci nei commenti chi è ricominciamo con 150 commenti sono io io sono io guarda che bello questo unicorno è bello no quello è mio questo qua è mio è mio quello è di mamma e questo è mio quindi tu c'è niente apriti qualcosa qua perché se non c'è niente apriti ce l'hai già qua è l'arancione è certo fammi vedere questo arancione com'è bello è marvellissimo vabbè bello vediamo tu cosa trovi e con questo vi salutiamo ragazzi e spero che non ci siano più vendette siamo tutti pari che dite? si dai siamo pari come no ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao